Oh Giù, dove vai con questa bicicletta? All'università, Jack Con la bicicletta? Dai, salta su che ti do uno strappo io Ma zitto, perché non conosci il nuovo progetto Bike to Study? Bike cosa? Bike to Study, caprone! È il nuovo progetto finanziato dall'Azù insieme all'Università degli Studi di Teramo che ti permette di andare a lezione con la bici, facendo sport, in modo ecologico e soprattutto ti rimborsano i chilometri che fai Bello figo Comunque stasera l'aperitivo a questo punto lo offro io, eh? Oh, sì! Bike to Study Il nuovo progetto sperimentale che si propone di erogare un incentivo economico diretto per favorire gli spostamenti in bicicletta È rivolto a tutti gli studenti dell'Università degli Studi di Teramo per gli spostamenti casa a facoltà in base ai chilometri percorsi Attraverso un dispositivo di geolocalizzazione potrai controllare i tuoi spostamenti e la posizione della bicicletta anche per prevenire eventuali furti Bike to Study Partecipa al sondaggio conoscitivo online attraverso il sito Unite o Azzu per fornire la tua disponibilità a prendere parte al progetto Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.